Intesa San Paolo Casa rappresenta per la banca il concretizzarsi di uno dei progetti chiave nell'ambito del piano di impresa che era l'ingresso di Intesa San Paolo in nuovi ambiti. Ogni immobile nel portafoglio di Intesa San Paolo Casa è fruibile, visibile, proponibile da qualsiasi agenzia e agente immobiliare sul territorio. La valutazione che viene fatta la nostra agente ha un controllo esterno, di secondo livello, che comunque serve da conferma che il prezzo proposto sia coerente con dei parametri e dei criteri oggettivamente rilevabili. La propessa di poter realizzare il sogno casa che aveva in mano attraverso la nostra piattaforma. Si può trovare, comprare, gestire la casa e offre anche soluzioni integrate e molto innovative, servizi di design, di arredo, di progettazione. Abitissimo nasce dalla propria esperienza del proprio CEO, Jordi Bair, per le persone che volevano cercare professionisti di fiducia per fare le sue piccole ristrutturazioni, lavori o servizi. Abbiamo un team di 130 persone, più di 270.000 professionisti. Ci sono dei segnali di ripresa, ad esempio il numero di compravendite in aumento. Ci sono indicazioni favorevoli anche dal lato dei mutui, soprattutto le nuove erogazioni. Non sono tutte surroghe, cioè sostituzione di vecchi mutui, ma al netto di queste in realtà c'è una crescita molto significativa. Grazie a tutti.